10 gennaio 2024 buonasera a tutti voi ragazzi eccoci in diretta per vivere insieme il derby della Coppa Italia è parte del derby ragazzi Lazio che attacca da Curva Maestrelli scusate il solfiatone ragazzi ho fatto la corsa che ti sei preparato tu e te Lazio che attacca da Curva Maestrelli verso Curva Nord buonasera a Silvano, Giacomino, Fabrizietto ragazzi benvenuti a tutti voi scusa Mardiccio per Zaccagni, Zaccagni scarica per Vesino che con l'esterno gli dà una palla meravigliosa se ne va a Zaccagni, l'accelerazione Zaccagni, area di rigore, Zaccagni palla al centro rimessa laterale Lazio bella chiusura dei Jusen, Lazio pericolosissima grande Vesino che ha innescato con l'esterno destro guarda questi che sono del piatto Cataldi, Ave per Lazzari, Lazzari rientra sul sinistro il trossi sembra buono non ci è arrivato per poco Vesino attenzione perché c'è c'è un giocatore della Lazio a terra proprio a centro area con uno della Roma che va ad insultarlo attenzione c'è l'errore Casteggiano si limita in l'area Casteggiano, no, palla intercettata è deviata da Boe Nardolo, ma questo è il nome tecnico, sono già due volte che Casteggiano si è per poco intercetta una palla, qui l'ha presa, sta per scoccare il decimo minuto, questo è uno schema, palla no, sbaglia il controllo, chi è che ha fatto sta cazzata? Cataldi? Mannaggia Cataldi, mannaggia, mannaggia Cataldi, penso che se c'era Marco ci toglieva una diretta no, ve lo giuro raga, non è così, sono già due volte che Cataldi fa una stranzata di bala, di bala, di bala, oh che brutto tocco, che brutto tocco, raga Cataldi pessimo Cataldi pessimo, gli ha dato la palla, palla con la sua, Cataldi pessimo, tre cose, tre stupidaggini ha fatto, ancora palla tra le linee, di bala, Gendose, prende palla, la dà Cataldi che a sua volta aziona Lazzari, Lazzari, apre per Felipe, vattene Lazzari, viene attivato da Felipe Anderson, da solo, da solo, Lazzari si accentra, Lazzari, 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 il tiro deviato, palla fuori, palla fuori, Lazio pericolosissima, ma ricordate il duello al derby, abbiamo vinto 3-0, bravissimo Lazzari, la prima vera azione della partita, ha fatto tutto bene, se l'è sistemata bene, niente rigore, perché Mancini c'ha il braccio attaccato al corpo, angolo per la Lazio, bella azione della Lazio, calcio d'angolo, una cosa incredibile, non ha saputo gestire un calcio d'angolo, era calcio d'angolo, clamorosa sbista arbitrale, Paredes che l'ha buttata in angolo, no raga, che sbista torsato, vabbè che c'è il torsato lì? Oh, ancora il break, Vesino ruba palla, il back tra Lazio, Vesino lancia Casteggiano, serie di rigore della Roma, Casteggiano, Silcrass, non c'è nessuno, se c'è ancora, e regà Zaccagni non sta bene, regà, Zaccagni non sta bene, angolo, arbitro, angolo, no non ce credo, la Roma vince con il trasto pericolosissimo, di balla, di balla, di balla, area di rigore, Roma pericolosa, la palla passa, Patrick, bravo a chiudere, meno male, arriva, la palla dietro, ma che gioia rugby, testate cazzo, la palla dietro, l'ha fatti di salire con passaggio sbagliato, poi sbaglia tutto la Lazio, c'è il break della Roma, meno male che recupera, la palla, ti rendi conto, la palla dietro, notte avanti a gioia, quella è il rugby, quella è il rugby, la Lazio lo fa sempre sta cosa, Felipe, no Felipe, e basta, su, ma che è sta mosceria cazzarola, pure il derby, per fortuna mi aspettavo che prendevi il Romagnolo, lo manda a quel paese, c'ha ragione, e che cacchio regà, e su eh, no, che beccato, oh che indossi, oh, e andiamo, break Lazio, pure un po' di fortuna, scivola qualcuno, sembra, oddio regà, sembra, andiamo avanti, Lazari, 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 apri per Felipe, Felipe per Lazari, aria di rigore, che indossi, anticipato del soffio, fallo, fallo, porco giuda, ragà, ma no quello, sono successe una maria di concomitanze a favore della Lazio, i giocatori della Roma che scivolavano, sembrava guarder, bella azione della Lazio, fa vedere, se la lanciava sul secondo, fallo degendosi su Mancini, attenzione, Felipe, a mezzo a Rumba bella, Felipe Rumba bella, Felipe, Felipe, dove vai, oddio ce ne abbiamo avuti tutti, Felipe, Felipe, il cross di Felipe, colpo di testo, miracolo, miracolo del portiere, Lazio, ti accendi, Lazio, ti accendi, quanto sei forte, lo vedi, lo vedi, lo vedi, lo vedi, se corri, lo vedi, che ce l'hai, è la testa, è la testa, no, Vesino, Vesino, nonostante Vesino è forte, la testa, attenzione, non franquette, se la prendeva Castellano se la prendeva, forse era meglio, è vero, ragazzi Lazio, ha un passo dal vantaggio, è lui Patricio, angolo Lazio, questo è uno schema, Felipe Anderson, si è acceso Felipe, ragazzi, attenzione, l'arbitro dice di andare, di continuare, ma intanto ce l'ha fare, pensiamo a giocare, la Lazio, la Lazio regama il calcio di rigore, mentre ancora i giocatori della Roma intorno al Tanti Castellano, sa insultarlo, ma insomma, e basta, e basta, io dico che è rigore, in 5, sento, eh no, non si vede, non si vede niente, sito un attimo, è rigore, è rigore, è rigore, è rigore, è rigore degli USA, arriva prima il Tati, domenica hanno dato un rigore identico, domenica hanno dato, no, 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 domenica hanno dato un rigore identico, è calcio di rigore, no, Vesino, tira Vesino, è rigorista Vesino, ragazzi, lo ho già da adesso, rigore nettissimo per la Lazio, nemmeno voglio sapeva che dice, calcio di rigore, l'ha notato, identico domenica, identico, stop, rigore nettissimo, rigore nettissimo per la Lazio, che rigore mi fa caso, no, 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 non c'è poco storia, guarda là, pure col fermo si vede, rigore netto, netto, sono chi lo tira, guarda chi lo tira, Vesino, tira Cataldi, rigore per la Lazio, non c'è storia, non c'è storia, rigore netto per la Lazio, boh, ma dai, su, dai, il Tati ha anticipato, dai, raga, ma non giocate, dai, non giocate, calcio di rigore per la Lazio, calcio di rigore per la Lazio, calcio di rigore per la Lazio, lo Vesino è rigorista, tacco di Vesino, no, rigore nettissimo, ma prendi quando ritorni il termo, sta tranquillo, dopo, 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 calcio di rigore per la Lazio, grazie, è buono, sulla palla, ma che malu, ah no, Zacca Agni, oddio, 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 Zaccani, direi rigore, calcio di rigore per la Lazio, sotto la curva Maestrelli, ragazzi, rigore per la Lazio, siamo al cinquantesimo minuto, rigore nettissimo per la Lazio, e vediamo un po' cosa succede, attenzione, ecco il fischio dell'arbitro, attenzione, Zacca Agni, tiro, la Lazio è in vantaggio, ragazzi, Lazio è in vantaggio, allora, posso dire una cosa? Sì, allora, ragazzi, si è acceso Felipe Anderson, un'azione pericolosa, e l'azione successiva è venuta a fare il rigore, c'è poco da fare, mandas, oddio, 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 mandas, butta via sta palla, rimortacci tua, palla lunga, perché c'ha la febbre pure lui, è stato no, non ha fischiato, non ha fischiato fallo, non ha fischiato fallo, l'ha fermato perché l'ha botta in testa, guarda, guarda Casteggianos, gomitata in faccia a Casteggianos, ragazzi, Mancini, una gomitata in faccia a Casteggianos, è clamorosa, no, vabbè, dai, regalo, su, bella palla, Marusic, oddio, cazzo della Lazio, Zaccagni, Zaccagni, la Roma è fuori, è out, palla per Felipe Anderson, Felipe Anderson, Felipe Anderson, oddio, vesino, miracolo del portiere, ancora Lazio, che è così, lo scarico, il tiro, miracolo, no, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, che ci siamo magnati, un'azione da scuola calcio, rivisto a Lazio l'anno scorso, raga, Felipe Anderson sugli scudi, si è acceso Felipe, si è acceso Felipe, parte Lazzari, Lazzari, anni del Ligo della Roma, Lazzari, attenzione, Zaccagni, oh, Vesino fuori, no, la Roma non c'è più ragazzi, chiudiamo sta partita, la Roma non c'è più, è in bambola, Lazio fantastica, no ragazzi, no, no ragazzi, ragazzi, no, mamma mia ragazzi, che Lazio ragazzi, cinque minuti clamorosi, da chi esce il posto? Felipe, raga, un altro Felipe Anderson, lo vedete com'è strano questo, lo combatte su tutti i paloni, lo vedete com'è strano st'uomo, il problema di Felipe Anderson è la è la testa, porca mignotta, è la testa, mamma mia quanto sono scarsi questo, vediamo un attimo, nono davvero, la Roma sta facendo delle cose, una cosa, fa vedere un attimo, ma dove cazzo sta, ma dove sta il cartellino, aspetta, guarda il braccio basso, ma dove sta il cartellino, spalla, sto romanista, spalla contro spalla, ma dove l'hai visto il cartellino, orsato, orsato, no, vabbè dai, mettite un paio d'occhiato, riparte la Roma, ma la Roma sbaglia, credetemi, la Roma è inguardabile, la Roma fischia a falle, porca miseria, raga, la Roma è una cosa nel pallone più totale, se lo insegniamo adesso è la fine, io ve lo dico, tanto poi un bolletto a culo fa, sicuro, c'è, boom, questo pure era cartellino, raga, allora, se mi hai fischiato lavoro, è qui, Spinazzola contro Felipe Anderson, Spinazzola, cross e buono, bravo Lazzari di testa, bravo Pellegrini che cica, poi Patrick, poi Vesino di testa, la Lazio non butta via la palla, Zaccagni, Zaccagni, dove vai Zaccagni, un fermato, calmo, bravo, bravo, dobbiamo andare qua sotto, no, Vesino si addormenta, gli rubano palla, break della Roma, Lukaku, gioca di sponda a destra, veloce, bravo, bravo, ci sei, ci sei, ci sei, che palla, gioca, che palla, gioca, che palla, Orsato non tenete mai queste punizioni, Casteccianos, questa ti fischia, no, vantaggio, Zaccagni, 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 Zaccagni non ci ha fiato, bravo, dai, 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 non è mio, che è così, vabbè, regà, a Lazio non ce la fa più, questo è così, è rosicone, gioca sporco, è così, io, ragà, scusate che vi fossi da Roma collegati, però a Mancini, regà, per me è l'anticalcio, mortecci tua, andava a monito pure prima per farlo su Casteccianos, guarda che fallo che ha fatto, impunito, vergognati, ma non ci credo, non ci credo, andava a monito prima, bravo il beccato da Lazio, no, la prende Isaksen, a Isaksen, due palle, due cazzate, ma che ha fatto, ha dato a quelli dalla Roma, a Zlun, no, Isaksen, prendete con, tre palle, porca mia, a Roma è sbilanciatissima in avanti, Roma sbilanciatissima in avanti, ragazzi, tre palle, Isaksen, tre palle regalate alla Roma, Isaksen, Lazio molto sicura di sé, Ghendosi, Isaksen ci arriva, oddio, Isaksen, vecino, Ghendosi, oddio, c'è Felipe Andersen che fa la palla, mannaggia la mignotta, Felipe Andersen voleva la palla addosso, oh, la prende Isaksen, Isaksen si mette davanti, oddio, Felipe, 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 bella palla, sopra, attenzione, Pedro, no, 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 ecco la palla buttata disperata a centro aria, Luca Pellegrini, a Zlun ne la tiene, tiro, miracolo di Mandas, che poi la butta in angolo, miracolo di Mandas, mamma mia ragazzi, miracolo di Mandas, miracolo, miracolo, miracolo di Mandas, miracolo di Mandas, miracolo di Mandas, pure la prima era difficile perché l'ha deviata qualcuno, il tiro di Belotti a botta sicura, Mandas farà così e così ma è stata deviata, Pellegrini la stava mettendo dentro, Mandas lo anticipa e la mette in angolo, ragazzi, questo è notto in pagella solo per questa parata ragazzi, tanto ragazzi una scena meravigliosa, c'è Luis Alberto che sta mirando la curva nord, è incantato ragazzi, mentre si scalda, è incantato a vedere la curva nord ragazzi, Isaksen fa combattere, Felipe, Felipe, oddio, c'è l'errore, Felipe Anderson, verso, la palla lunga, stava dietro la metà a campo, non è fuori gioco, Isaksen, Sgovida, la prende, la palla, la palla, guarda che culo, guarda che culo ragazzi, incredibile, anticipato che Endosì, qua Mancini ha fatto una cosa grandissima, va detto, non lo sopporto come giocatore ma ha fatto una grandissima cosa, ha fatto un recupero davvero meraviglioso, un rovescia, guarda Felipe che non la spazza, che la gioca, e poi Isaksen che la butta fuori, ma che hai fatto, sta male, è vero, pure lui sta male però, qua sto pezzo di merda, ha deficiente di merda, fatti schifo, sei uno schifo umano, battete a casa, brutto ritardo, mamma mia, fai salì il veleno, 3 minuti, Felipe la butta via, eppure è buona per Isaksen, guarda Felipe, guarda Felipe, Isaksen, cazzo, Felipe si era riproposto a sinistra, e no, no, bravo Marucic, Lazio stoica, come finisce, brava Lazio ragazzi, ancora Roma, esce Raffi, palla a centroarea, Lukaku rovesciata, mamma mia, Roma un passo dal pareggio, vai Luca, vai Luca, faglia così, Grotto, diglielo un farcia, Roma un passo dal pareggio ragazzi, diglielo, rovesciata di Lukaku, rimessa laterale Roma, va bene così, oh arbitro è finita, ma che è finita, c'è un altro minuto, c'è un minuto e mezzo, per la rissa di Petro, e che due tre minuti in più dai, 99esimo, mi sta piacendo tanto la grinta della Lazio, la cattiveria che ci ha messo, si è unita a soffrire, c'è intanto, oh, espulso, espulso al Zmun ragazzi, pure i mancini, espulso a Zmun che mette la mano al collo, a Rovella, pure i mancini ha messo la mano al collo, pure i mancini ha messo la mano al collo, dovrebbero mancare 30 secondi, te prego, orzato, orzato, Mata se la butta giù, non fischia, centesimo minuto di gioco, l'arbitro decreta, non fischia, non fischia, non fischia, pure a stavolta, pure a stavolta, pure a stavolta, è finita ragazzi, taglie, taglie, è finita ragazzi, 26 maggio, e continua a virare, terra dell'ulic, andatevene tutti a casa, a piangere dalla mamma, avete capito ragazzi, intanto c'è Mancini che continua, vai a casa Mancini, vai a casa, e questa è la vittoria, a casa, Mancini vai tu a casa, a casa Mancini, a casa Mancini, Mancini a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, vai a casa, vai a casa, c'è ragazzi!